La presentazione delle relazioni sulle attività svolte nel 2020, il bilancio preventivo 2021, il rinnovo delle cariche sociali e la nomina dei delegati alle prossime assemblee regionali e nazionali. La settantesima assemblea provinciale dell'Avis che si è tenuta nella sede del centro sociale quadrifoglio a Ponte Lago Scuro registra numeri positivi. Numeri importantissimi e confortanti veramente. Noi chiudiamo l'anno 2020 con un segno più nell'ambito della raccolta di sangue intero e plasma e nell'ambito del numero dei donatori associati. Noi abbiamo raccolto oltre 1191 sacche di sangue e plasma in più rispetto all'anno precedente nonostante il Covid. Per cui noi per dieci mesi abbiamo dovuto convivere con il Covid e quindi per dieci mesi io avevo sempre le dita incrociate sperando di riuscire a raggiungere i risultati dell'anno precedente e invece li abbiamo superati frutto di una grande sensibilità da parte dei donatori dei nostri dirigenti e dall'altra parte abbiamo aumentato il numero di soci. Siamo arrivati ad avere il numero di soci che avevamo probabilmente dieci anni fa quindi direi un bel risultato. Tra gli interventi quello dell'assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti insieme ai presidenti e responsabili di enti e associazioni che collaborano con Avis tra cui Admo, Alterino Vullo e Ado, collaborazioni uniche nel panorama regionale. L'Avis provinciale di Ferrara compie oggi la sua settantesima assemblea provinciale e porta un bilancio molto positivo unica fra le Avis della regione ad aver avuto un eccezionale incremento nelle donazioni anche nei soci nell'anno della pandemia. Questo è oggetto di studio a parte dell'Avis regionale proprio perché abbiamo visto che l'Avis di Ferrara ha avuto questo passo avanti formidabile. Numeri insomma da confermare nonostante qualche criticità da risolvere. L'unica criticità vera che possiamo registrare nel 2020 e anche nel 2021 è quella del personale sanitario medico infermieristico che purtroppo stiamo notando che sta scarseggiando. È ovvio che l'emergenza Covid che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che le aziende sanitarie hanno necessità di personale e quindi lo utilizzano ma dall'altra parte le associazioni come la nostra che utilizzano personale infermieristico e medico e che pagano per questo scopo non ce l'hanno a disposizione. Ci siamo trovati un po' in difficoltà su questo aspetto. Stiamo cercando di fare campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'ordine degli infermieri per avere una maggiore adesione e stiamo vedendo i risultati però questo deve continuare. Deve continuare perché il rischio altrimenti è di dover ridurre le uscite perché ci manca il personale per fare l'equipe. Questo non può essere assolutamente, questa è una cosa che non deve avvenire assolutamente. L'altra cosa invece internamente dobbiamo provare a modificare il nostro calendario della raccolta cercando di spostare le raccolte dal sabato alla domenica anche durante la settimana perché questo ci aiuterebbe ad avere bisogno di meno personale infermieristico e medico. Però questa è una cosa che concorderemo con l'ordine comunale e faremo soltanto in accordo con loro.